A un anno dall'ultimo assalto i banditi tornano in azione nella gioielleria Orofino all'interno del centro commerciale Le Colonne di Brindisi. Questa volta niente fucili a canne mozze, ma grossi martelli per mandare in frantumi le vetrine che custodivano i gioielli. Due sono state completamente svuotate. I banditi hanno fatto irruzione nel centro commerciale alle 10 del mattino quando centinaia di persone affollavano la galleria. In due, con il volto coperto e armati di grosse marze ferrate, sono entrati dall'ingresso principale e si sono diretti verso la gioielleria che si trova lontana, una cinquantina di metri. Hanno puntato alle due vetrinette più esterne, quelle che probabilmente contenevano gli oggetti maggiormente di valore e le hanno mandate in frantumi. I colpi, violentissimi per sfondare i vetri, sono rimbombati in tutto il centro commerciale terrorizzando i clienti. Un dipendente della struttura ha avuto la prontezza di riflessi di invitare tutti, attraverso gli altoparlanti, a spostarsi nella zona dei bagni. La rapina è durata pochi secondi. Distrutte le due vetrine e arraffato il loro contenuto, che è stato gettato in alcuni borsoni, i due sono scappati all'esterno, dove li aspettava un terzo complice, al volante di un'auto di colore scuro, probabilmente una Giulietta. Pochi minuti dopo, sul posto, sono intervenuti i investigatori della squadra mobile e della sezione volanti, mentre i rilievi sono stati affidati alla polizia scientifica. Acquisite le immagini a circuito chiuso del centro commerciale della gioielleria, il 21 ottobre dello scorso anno. La stessa oreficeria venne assaltata nel primo pomeriggio da quattro banditi armati di fucile e mazza ferrata, che fuggirono in sella due scooter. Pochi mesi prima, il 14 gennaio 2019, era toccato alla gioielleria Stroili, sempre all'interno dello stesso centro commerciale di Brindisi.